Ragazzi vi faccio vedere come gioca Antonio Vedete ho poi il ballo Questo è Fortnite lo sapete tutti E lui sta giocando sulla Nintendo Vedete La vedo? Sono molto disperato Comunque lui ha già perso una volta Di brutto Di brutto tantissimo Gialla Guarda gialla Non mettiamola avanti Non li fai vedere Figuriamoci domani in piscina Grande Antonio Lì ci vince Lì ci vince Ci sta mettendo Non so perché ragazzi Comunque Ah ecco qui Tiene Falli provare il piccone come fa Vedete fa la musica Perché è di un cantante Di nome Macimello Cocco 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 Comunque vedete come gioca Che? Che ne so Tu lo vuoi mettere? Vedi come suona È felissimo sto coso Oh belli Comunque la prima partita Già aveva trovato un fucile a pompe Buonissimo E poi non straccia Poi altre armi Uno scudino Una cassa Che stavano Un scudino E altre armi Comunque tutto a fare ballo Il lama Che succede? Aspetta ragazzi Bella ragia Oh zio famino hamburger Doppio Allora doppio ketchup Doppio hamburger Comunque quando giocate? Quanto quando giocate? Ora Mancano Mancano poco ragazzi Tre Uno Inizia la partita Inizia la partita Vado a Burgobie Vado a Burgobie Comunque Lo metto un po' più vicino Oh bello Non ci vede un cazzo Non ci vede lui Non so Ragazzi Vedete bene? Già Già che questo è uno schermo minuscolo Eh Appunto Tengo un telefono di merda Non posso comprare la telecamera Perché sono povero Proprio Vabbè Credo che ci vedete così Non povero Ricco e povero Normale Eh normale tipo Aspetta Manu Vedete Oh hai visto che bel paracaduto Che tengo Con la Burghe sopra Si vola Si magna E già spassa tutto Ovviamente Manco la cesta Ma va a caga Eh oh La cesta Già zitta Che ti la puoi trovare Ok Ha trovato un'arma Dici che è un'arma Scarra Wow Buono Scarra Buonissima Cos'è? Minigam La minigam Mamma mia Ragazzi Ha trovato la minigam Con questo si scassa tutto Già te lo dico Ti scassi tutto Che poi? Che hai trovato? Eh Ganato di impulso Buono? Buono Sì Mi taglietto Compatto Ho trovato mai Un scudino? Zitto Qualcuno ragazzi Ragazzi Mi ha fatto È morto Antonio Giusto? Sì È morto Allora Ragazzi È morto Antonio È morto Tantissimo È morto Da un botto Mamma mia Mi ha avuto pure paura Aspetta No Non mi riprendo Allora Ragazzi Vediamo Andiamo Andiamo Dopo Ciao 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 Ragazzi Eccoci qua Era un attimo di pausa Perché siamo andati a cagare Eh sì È andato a cagare Che bello È andato un attimo di pausa Allora domani vedete Per scegliere tutto Domani vedrete un video dove restare in me piccino Ehm E che fai tuffi Comunque Domani sarà una giornata bellissima Super bella Allora Dopo spettacolare Facciamo colazione Eh Poi ce ne moffi le in costume E poi andiamo in piscina Comunque fai vedere ragazzi Metti dritto Se non vedono Mettiti un po' più lontano Così Eh Ma così non vedo ancora E fai lo zoom Un po' Come si Aspetta Eccovi Fai lo zoom Così va bene Va bene Ecco ragazzi Lo zoom Lo vedete mai Io sono un bello youtuber Eh Lui è un bello youtuber Il mio amico Il mio cugino Eh il suo cugino C'è comunque Salvatore Il mio cugino E mi ha portato E venuto da casa Su a portare il suo computer Ah E il E il Va bene Non importa ragazzi Va bene E il Comunque Ho editato il video Io ho editato un suo video Che Ragazzi così mi ha detto Ma io ho messo un altro po' di zoom Non zoomare troppo Eh ma così non vedo Non vedo meglio La partita Che tu perdi ogni volta Vado a grandi magazzini